ragazzuoli al volo prima di lasciarvi al video volevo chiedervi ma per caso voi siete appassionati di maglie, tute, tuzia qua pelata insomma tutta roba comunque sportiva bene perché ho il sito che fa per voi divise calcio top lo trovate qui sotto in descrizione per maglie, completini, tute insomma di tutto forse anche i capelli della zia e in più inserendo il coupon hashtag marconi avrete una seconda maglia completamente gratis insomma io vi suggerisco di farci un salto con enfasi non indifferente salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio della carriera ci sono un po' di domande che sicuramente vi starete facendo e alle quali darò alcune risposte ad esempio perché l'enfasi oggi è meno del solito perché se non state guardando questo episodio in anteprima perché altrimenti non sapete quanto durerà ma se lo state guardando in video normale sì e allora perché dura meno rispetto agli altri episodi e perché Fede hai una faccia che pare che ti è appena morto il gatto perché sono incazzato come una bestia in questo momento e la cosa più brutta è che non posso fare nulla per risolvere questa cosa sapete quando siete arrabbiati e fate tutto per risolverla ecco a volte la tecnologia vi prende per il culo e vi fa capire che poi non potete fare nulla vi siete assolutamente impotenti non contate nulla in questo caso la mia ps4 ha voluto farmi un bello scherzetto perché ho registrato un episodio pazzesco che è andato non è andato particolarmente bene, non vedi che era successo ma semplicemente l'episodio forse più importante fino a questo momento ovvero l'episodio in cui c'era il Wolfsburg in Bundesliga dopo averlo affrontato tre giorni fa in DFB Pokal a proposito grazie per avermi corretto la pronuncia della Coppa di Lega tedesca in cui c'era la sfida di ritorno al Vanda Metropolitano con l'Atletico Madrid e in cui c'era semplicemente il Classiker ovvero la sfida contro il Bayern Monaco ebbene, che cosa è successo? Io ho registrato, come sempre, un episodio della carriera la play invece no perché? Perché registro con il tasto share, molto semplicemente e quindi oggi aveva deciso che non gli andava mi sono accorto di questa tragedia e questa era la mia faccia in questo momento quindi l'unica cosa che posso fare, oltre nulla, è farvi, ovviamente avendo le registrazioni dell'audio del mio commento, giusto quelle, posso farvi vedere come sono finite le partite di questo episodio e andarvi a far sentire una sorta di radiocronaca sì, tu che stai pensando di commentare in questo modo, fa cagare come cosa un episodio così, un episodio in cui c'era il Bayern Monaco, in cui c'è la Champions con l'Atletico Madrid fa cagare al cazzo in questo modo, però mi dispiace, non c'era un'altra opzione scusate se sto utilizzando un po' più parolacce del solito scusate se sono un po' oggi sì, con enfasi molto indifferente e quindi partiamo partiamo dal Wolfsburg, il Borussia vince 2-0 sul campo del Wolfsburg dopo tre giorni appunto da quella sfida lì la gara finisce 2-0 per noi e vi lascio sentire l'audio dei gol Greer arriva prima Camacho per il contropiede, ma Trippier ha capito tutto quindi resta in avanti il Dortmund palla dentro per Wolf dalla destra vuole il cross che arriva morbido verso Grey che porta avanti il Dortmund Demarai Grey prima gol in Bundesliga con la maglia giallonera è 1-0 Borussia al 22esimo si sblocca e si sblocca bene il match della Volkswagen Arena e riparte la squadra giallonera Pulisic da Paco Alcasera sale a sinistra Grey può andare in campo aperto per chiudere la partita e per la sua doppietta corre Grey che è stanco fino in fondo sinistro e non è mica troppo stanco perché butta giù la porta 2-0 Dortmund a 12 minuti dalla fine la chiudiamo definitivamente partita che la Borussia ha reso semplice ma come ho detto la vigilia non era semplice eppure arrivano i tre punti 2-0 con doppietta di Demarai Grey esulta il settore ospiti bene quindi fondamentalmente quando vediamo il Wolfsburg ci esaltiamo perché ha segnato Roistregolli in Coppa di Lega oggi ne ha fatti due Grey molto importanti perché ci permettono di salire a quota 15 punti in classifica andiamo avanti tre giorni dopo la gara esterna contro l'Atletico Madrid gara importantissima perché è complicato andare lì e pensare di vincere però doveva essere il nostro obiettivo un Borussia che gioca benissimo per 90 minuti crea tantissimo purtroppo finisce 1-1 e finisce 1-1 con un gol di un giocatore che era molto atteso e che ci ha fatto strillare sappiamo che non sarà facile sappiamo che l'Atletico che quest'anno la finale in casa farà di tutto per raggiungerla così come sappiamo che se abbiamo perso all'andata contro questo avversario non è stato frutto del caso magari è più forte però sappiamo anche altro sappiamo che prima o poi ci arriveremo a questo livello perché Marconi lo ha sempre inculcato ha sempre inculcato una mentalità vincente nelle sue squadre una mentalità per la quale non ci si arrende mai sappiamo che quando sentiamo questa musichetta qui la motivazione è diversa e allora forse stasera può essere una serata di gloria può essere quella serata che rilancerà la nostra stagione attenzione se così non dovesse essere nulla da buttare perché ci sono ancora tanti mesi per crescere salito Filippe Luis a sinistra non servito pelprone regalato a Witzel che può andare dentro da Simeone sono scoperti in mezzo Luis Simeone fino in fondo destro di Simeone che segna il gol dell'1-0 proprio in casa del papà proprio al Vanda Metropolitano Atletico 0 Borussia 1 ha segnato il sciolito ed è il gol che può rilanciare la stagione del Dortmund è il gol che ci porta in vantaggio contro tutte le attese della vigilia è 1-0 Dortmund non ci arriva Oblak al terzo tentativo un vantaggio permettetemi di dire strameritato Juanfran fa salire Saul Niketz cross sul secondo palo e arriva un grandissimo gol di Koke un grandissimo gol dell'Atletico Madrid che pareggia al 43 non è un risultato meritato è quello che si è visto in campo si diventa i meditivi però io potrei un attimo soltanto mettere pausa e farvi vedere le statistiche fino a questo momento Simeone Paco Alcacer fa il movimento suggerimento per lui è forse il primo valore che tocca Paco Alcacer e non è una buona cosa poi Simeone dentro da Michael che allarga per Reus aria di rigore Reus Oblak non ci credo la Fierelli Oblak al 91esimo match point per il Borussia Dortmund è l'arbitro chi della partita solo 1 a 1 a Madrid per un Borussia che però questa sera ha fatto vedere grandi cose la risposta il carattere che volevamo c'è stato bene quindi avete sentito anche dall'audio finale che come al solito adesso non vi avrò messo tutte le palle goal perché sentire un un commento di highlights senza vedere effettivamente gli highlights non è manco troppo bello e quindi questo mi dispiace però comunque sia Dortmund che ha collezionato tantissime le goal per l'arco per tutto l'arco dei 90 minuti che poteva e doveva vincere la partita con quell'occasione di Reus nel finale ma che pareggia per 1 a 1 quindi un pareggio che non so quanto potrà servirci in questo girone passiamo andiamo oltre la sfida più attesa di questo episodio la sfida contro il Bayern Monaco che però ahimè conferma che siamo ancora inferiori al Bayern perché perdiamo 2 a 1 in casa e la partita va in salita va in salita perché loro si comportano da squadra superiore noi in realtà ci proviamo non dominiamo come contro l'Atletico Madrid andiamo sotto 2 a 0 poi nella ripresa prova a riaprirla Mario Gozze però purtroppo non basterà neanche oggi tiene il pallone poi comanco il fisico la tiene anche in campo attenzione il cross sul secondo palo verso Robben chiude Riccardo Rodriguez e poi il gol del Bayern Monaco non è possibile prendere un gol così perché Burkia ha i riflessi di un ottantenne non è possibile prendere un gol così siamo già nel recupero del primo tempo 1 a 0 Bayern Tolisso Hames Lewandowski attenzione tocco ancora per Lewandowski non è possibile non è possibile stavo per dire vediamo di finire il primo tempo 1 a 0 che poi nel secondo può succedere di tutto invece no se abbiamo un piede nella fossa è un nostro compagno di squadra spingerci nella fossa con l'altro piede tocco per Gundogan da questi a Paco Alcacerra che aspetta serve un grande pallone a Gozzi a Gozzi pallone sul fondo per lo scatto di Sancho la palla non sembra malissimo Sancho ci arriva infatti riesce a toccare per Paco Alcacerra che è fuggito alla difensore poi lascia fuori a Gundogan Gundogan traversa traversa di Gundogan e allora riparte il Dortmund a destra e solo Sancho sono scoperti senza un motivo puniamoli adesso Sancho fino in fondo poi lascia il pallone a Gozzi che arriva da dietro Gozzi 2-1 il Dortmund è vivo un quarto d'ora alla fine ha segnato Mario Gozzi che si va a prendere il pallone perché è tornato a casa e lo ha fatto capire ai suoi ex compagni di squadra lo ha fatto capire col gol del 2-1 dove Neuer non può arrivare finisce la partita con il Borussia che attacca finisce la partita ha vinto il Bayern Monaco per 2-1 in casa del Borussia Dortmund che anche oggi cerca una rimonta a metà cerca una rimonta a metà o meglio ormai si comincio a sospettare quello Borussia che crea non concretizza e comunque diciamolo Borussia è inferiore a questo Bayern Monaco che oggi ha dimostrato di essere molto forte molto più forte di noi e finiamo con l'ultima partita dell'episodio dopo la pausa per i nazionali una partita che poteva sembrare inutile ma che in realtà ci dirà molte cose Mainz 1 Borussia Dortmund 2 questo il risultato in trasferta contro il Mainz perché ci dice molto perché fino a questo momento il Borussia quando era andato sotto in stagione aveva sempre perso oggi invece andiamo sotto e poi finisce direi discretamente bene e finisce bene nel finale di partita insomma una vittoria alla Marconi Niacate parlo che in qualche modo non si sa neanche come arriva Mateta poi Sangaré e arriva il gol dell'1-0 del Mainz al quindicesimo gol dell'1-0 del Mainz che in questo momento ci supera anche in classifica portandosi a 18 punti 3PR mette il cross secondo palo Royce il capitano fa 1-1 a 20 dal novantesimo la grinta del numero 11 che va a prendersi il pallone il secondo gol in campionato entrambi in trasferta il quinto totale in stagione dopo i 3 al Folesburg colpo di testa e solo a centro area su un grandissimo cross di Trippier il Borussia che pareggia sterza lascia Weichel sta partendo Wolf che vuole il pallone lancia Weichel verso Wolf che sembra lunga ci può arrivare comunque il 27 infatti ci arriva chi c'è dietro nessuno quindi il 27 va da solo sempre Wolf chiuso però resisti con il fisico non mi offendo se tieni un contrasto non mi offendo mica può invece ripartire il Mainz no allora chiude avanti comunque il Dortmund vediamo se riusciamo a fare gol c'è Royce larghissimo cercato fa passare intelligentemente il pallone al centro Weichel ecco il cross che arriva secondo palo Wolf gol ha segnato Wolf al novantatresimo ha vinto il Dortmund in rimonta per la prima volta in stagione al termine di una partitaccia sul campo del Mainz gol e assist per il capitano Royce papera di Adler che qui è nettamente responsabile perché se la mette dentro da solo però il gol è di Wolf ha segnato il Dortmund incredibile e questo quindi era questo episodio bello spero che vi siete divertiti lunghissimo belli gol li avete visti no? vabbè scherzi a parte sdrammatizziamo un po' perché sinceramente poi di caricare e montare anche per quanto ci sarà da montare sto video un video in cui mi lamento in continuazione anche se sono abbastanza contrariato e ci mancherebbe in questo momento non mi va e non è neanche troppo rispettoso per voi come poi non è rispettoso portarvi comunque un video del genere se di carriera si parla io spero che comunque apprezziate l'impegno ho provato in tutti i modi ragazzi io avrei anche non lo faccio mai non lo faccio neanche quando perdo lo sapete perché ho perso delle finali ho perso delle partite clamorose però ho sperato di ritrovare dei salvataggi per rigiocare l'episodio perché sicuramente sarebbe stato meglio però alla fine non c'erano proprio e quindi vi ho portato questa cosa qui vi chiedo un like giusto per supportarmi non la serie non il canale me supportate me con un bel like nei commenti stavadi vabbè insomma avete capito io la chiudo qui perché non avrebbe senso poi andare oltre anche in questo episodio perché poi ci perdiamo un po' però vi prometto che domani e questo lo dico per rispetto proprio nei vostri confronti uscirà un altro episodio quello sì serio in cui ci saranno altre partite molto importanti perché il club brucia a questo punto diventa fondamentale e poi Friburgo Schalke e Monaco quindi si chiude anche il girone insomma un episodio da non perdere spero che vedrete anche il gameplay in questo episodio qui sarebbe carino vi lascio un bacione scusate però poi non dipende neanche troppo da me ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti